Li separano 120 km lungo l'A4, rapporti bruciati da un gelo artico in questa giornata di caldo ormai primaverile. Dopo gli incontri ravvicinati e gli scontri a distanza, Luca Zai e Flavio Tosi parlano apertamente. Il primo a farlo verso le 12 a Palazzo Balbi è il governatore che dice di non temere una candidatura del sindaco. No, guardi, i sondaggi ci danno assolutamente in vantaggio, però è anche vera una cosa che il mio terreno migliore è quello con difficoltà, quindi corro per i campi e io sullo sterato rendo meglio. Il decaduto Tosi risponde alle 15.20 attorniato dallo staff della Fondazione in una conferenza a fiume in comune a Verona. La botta l'avverti perché dopo 25 anni è una cosa che senti e quindi adesso ci ragiono su un po' e poi decido cosa fare. 48 ore deciderà le sue accuse a Salvini che definisce un dittatore avrebbe usato il pretesto della Fondazione per allontanarlo. Le tensioni all'interno del centro-destra in Veneto favoriscono ovviamente il centro-sinistra, ma la responsabilità va a chi ha determinato questa rottura, a chi ha voluto questa rottura. Penso che poi forse alla fine davanti alla decisione abbia scelto di lasciare la Lega e scegliere la sua fondazione. Le strade dei due ormai si dividono contrario ai repulisti, dice Zaia. La Lega resta Lega e saranno certi militanti in caso a chiamarsi fuori. Emergono dettagli sulle ultime trattative. Tosi chiedeva addirittura la cancellazione della lista Zaia, pretesa eccessiva, più un tentativo di farsi cacciare. Io dico che oggi bisogna girare pagina, pancia a terra e lavorare, perché la gente da noi vuole vedere problemi risolti, vuole sentire parlare di lavoro, di sanità, di sociale, di economia e non di baghe di partiti. Grazie.